ciao ragazzi oggi vi voglio presentare la nuovissima pedana folding pro evo è una pedana ripieghevole adesso è aperta è dotata di quattro gambe di 36 mm quindi molto molto robuste e le gambe sono praticamente due che di solito si usano in posizione anteriore telescopi con un'escursione di circa un metro e venticinco un metro e trenta utile utilizzando anche il telescopio e due posteriori fisse di 50 centimetri e la pedana come potete vedere è provvista di due livelli per poter perfezionare e metterla perfettamente in piano e un'altra cosa molto importante da dire sono le misure interne della pedana quindi dove potete dopo andarci ad appoggiare i vostri panieri misure interne pedana sono 81 centimetri per 89 e mezzo e questa è una pedana molto comoda perché comunque quando andrete a poterla sistemare piuttosto di stare come magari sono adesso io in posizione laterale e agire sui pomelli che magari dovete andare poi dall'altra parte e a volte non è facile poter fare il giro ci possono essere diciamo degli impedimenti potete fare la regolazione direttamente dalla posizione centrale quindi è molto facile e molto veloce anche il posizionamento la pedana praticamente è dotata di maniglia per il trasporto una volta che uno la vuol richiudere basta sfilare le gambe in questa maniera qua e praticamente da tutte e due le parti come potete vedere c'è questo pumello che praticamente libera una slitta e questa slitta non fa altro che andare a liberare praticamente le due parti della pedana sia da una parte e dall'altra una volta liberate le due slitta la pedana è pronta per essere richiusa all'interno si può mettere le gambe praticamente ci sono le chiusure e l'ingombro come potete vedere è veramente contenuto allora